Il Governo sta pompando ossigeno negli asfittici polmoni delle imprese italiane. Ai 21,6 miliardi di debiti delle pubbliche amministrazioni pagati nel 2013, si aggiunge oggi il miliardo di liquidità che resterà nelle casse delle aziende, grazie al rinvio al 16 maggio dei termini di pagamento dei contributi INAI. Un po' di sollievo arriverà anche per i lavoratori delle aziende in crisi, con i 400 milioni assegnati per tutte le forme di cassa integrazione, dal decreto firmato ieri dal Ministro del Lavoro Enrico Giovannini e dal Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni. A luglio 2013 il Tesoro ha immesso 21,6 miliardi di liquidità nell'economia reale, pari a 1,6 punti percentuali di PIL, mandando in pagamento il 79% degli oltre 27 miliardi, stanziati per il 2013 dai due decreti battezzati sblocca debiti. Nei primi giorni del 2014, spiegano del Tesoro, stanno andando in pagamento altri 2,9 miliardi già disponibili. Saccomanni ha ricordato che fra luglio e giugno sono stati immessi nell'economia reale liquidità a ritmo di 3,6 miliardi di euro al mese. Secondo un sondaggio fatto da Banca Italia, molte piccole e medie imprese hanno subito dirottato questi fondi verso il pagamento degli stipendi arretrati.